Caran, come stai? N'è passato di tempo da quando ci siamo conosciuti quattro anni fa in Calle della Cruz, qui a Madrid, te lo ricordi? La verità è che non so in che idioma contarlo perché siamo una mezcla, una mezcla rara, una rusa che vive in Francia e un italiano che è sembrato in Spagna. E da allora abbiamo cominciato un'avventura fantastica che fino ad oggi non si è mai fermata e continua a non fermarsi. Continuiamo a girare mezzo mondo e siamo stupidamente innamorati come è il primo giorno. La felicità che mi apporta è così grande, così inmedibile che mi sento molto fortunata. Io, se fossi una casa, lui sarebbe il fondamento. Credo che sono tutte le cose belle che hai dentro, le finestre, il calor, il comfort, tutto lo che ti fa sentire in casa, però lui è la base. E noi siamo un'avventura molto belle. Mi sento parte di un mondo quando sto con lui. e anche parliamo il nostro proprio idioma con le parole metà russo, metà spagnolo, e con la gramatica inglesa e con altre parole, non so, di repente, francese. e, in fin, è quello che mi fa molto felice. Cada giorno, più e più. Volevo dirti che spero che le cose vanno sempre così, che diventeremo vecchi insieme e che continueremo a essere stupidamente innamorati anche tra 50 anni. Grazie a tutti!